Rieccoci dopo la pausa andiamo di nuovo al Museo Internazionale della Musica, questa volta per andare a osservare da vicino la collezione degli strumenti extra europei. E allora collegati con noi ci saranno Enrico Tabellini che è il referente della comunicazione, lo vedo già lì inquadrato, subito dopo parleremo anche con Maura Favali che è la restauratrice che si sta occupando della pulitura di questi strumenti. Allora subito con Enrico Tabellini andiamo un po' a fare il punto perché li vediamo gli strumenti, sono tutti lì disposti davanti a lei, quindi insomma le chiediamo davvero che valore hanno e soprattutto di raccontarci un po' questa storia, una storia che arriva da lontano anche perché non vengono esposti al pubblico dal 1888. Assolutamente sì, intanto buona giornata a tutti, allora gli strumenti che ho qui davanti in realtà sono una piccola selezione della nostra collezione di strumenti extra europei, diciamo è un po' la punta dell'iceberg, il meglio di quello che vi vogliamo mostrare oggi. Sì, la collezione in realtà è una chicca perché è appena rientrata da un deposito oramai quarantennale nei sotterranei del museo medievale, dove devo dire sono stati conservati egregiamente. Qui vedete alcuni pezzi che risalgono in realtà alla fine dell'Ottocento, quando nel 1888 per la celebre esposizione universale che si è tenuta qui a Bologna ai Giardini Margherita in occasione dell'ottavo centenario dell'Alma Mater, cioè della nascita dell'università, venne messa in piedi questa grandiosa operazione simile a quella di Milano di qualche anno fa, che ebbe un enorme eco a livello nazionale e internazionale, per la quale i vari padiglioni in stile Liberty, oggi esiste ancora solo la fontana che ricorda quell'evento e lo chalet al centro del laghetto dei Giardini Margherita, ma all'epoca i Giardini Margherita furono una distesa di padiglioni, il padiglione dell'industria, il padiglione dell'elettricità, il padiglione dell'agricoltura, una vera e propria expo, c'era addirittura una teleferica che portava le persone su a San Michele in Bosco. Il padiglione più grande però fu il padiglione dedicato alla musica, pensate che venne allestito una mostra gigantesca con più di 80 prestatori internazionali, venne allestito addirittura un auditorium da 2000 posti, proprio ai Giardini Margherita, che venne purtroppo smantellato appena finita l'esposizione universale, e di quell'esperienza, a parte alcune bellissime immagini di fine ottocento, rimane questa collezione di strumenti etnici, che si affianca ovviamente alla collezione di strumenti europei, che in parte è più antica, in parte è stata messa insieme nella stessa epoca, e qui ne vediamo alcuni esempi. Sono strumenti che vengono fuori dai depositi oggi appunto, dopo decenni e decenni in cui sono stati, non dico dimenticati, ma sono stati semplicemente conservati. Sono dei pezzi strepitosi, ripeto, sono più di 70, quindi qui ne vediamo proprio solo una piccolissima selezione, provenienti da tutte le parti del mondo. Vi faccio qualche esempio, adesso lo alzo con molta delicatezza, questa è una lira a cinque corde etiope, qui avanti abbiamo strumenti invece cinesi, tipo, adesso torno a favore di telecamera, una pipa, una specie di mandola cinese, tra l'altro non so se si sente, ma con dei tinti in naboli interni doveva fare proprio questo effetto, veniva scossa mentre venivano pizzicate le corde. Altri strumenti come questi organi a bocca, sempre cinesi, sempre di fine dell'Ottocento, un gembri, che è un antenato del gembri, del tipo di strumento che ancora oggi viene utilizzato, è un monocordo, notate il retro fatto col guscio di tartaruga. Più avanti possiamo vedere una arpetta africana, un altro monocordo, questa volta cinese, con pelle di serpente, la sua particolarità è questa. È molto interessante anche come arrivano a Bologna, scoprire come arrivano a Bologna questi strumenti, perché sono frutto praticamente di una serie di donazioni che arrivano da tutte le parti del mondo, da parte di italiani espatriati, a volte dei diplomatici come Giovanni Vigna dal Ferro, che è stato autore di una vita roccambolesca, ha passato quattro anni nel Far West, poi si è trasferito come attaché commerciale a Shanghai, in Cina, come Riccardo Lucchesi, Riccardo Lucchesi che viene, parte giovanissimo, si dice per ragioni di un duello finito male per l'avversario ovviamente, e si trasferisce negli Stati Uniti dove diventa piuttosto celebre, si trasferisce a San Francisco e buona parte degli strumenti cinesi che noi abbiamo in collezione provengono in realtà da Chinatown, dalla Chinatown di San Francisco, inviati appunto da Riccardo Lucchesi, oppure Francesco Amici, Federico Amici scusate, che è l'uomo di fiducia del Chedive d'Egitto, diventerà una persona molto importante, addirittura un Bey, quindi una specie di conte, ma sicuramente la figura e lo strumento che vi voglio mostrare è questo, questa specie di sitar, molto grande, che è stato inviato addirittura da un rajah, su Rindo Mohuntagore, vedete è uno strumento meraviglioso, è poi quello celebre anche di Ravi Shankar, quello per cui i Beatles sono impazziti negli anni 60 e 70, nel loro periodo indiano, strumento meraviglioso. Surindo Tagore è una figura molto interessante, proprio perché lui era un musicologo indiano, in realtà aveva studiato nelle migliori università, in Pennsylvania era laureato a Norris Causa, ad Oxford, era ovviamente un rajah, quindi faceva parte della casta più alta, lui era di Calcutta, ma fa questa operazione a metà dell'Ottocento, per cui vuole far conoscere la musica indiana in giro per il mondo, e cosa fa? Inizia a donare strumenti ovunque, partendo dall'India, ci sono strumenti donati da lui a Tokyo, a Melbourne, al Met di New York, alla National Gallery di Londra, e l'unico strumento della sua collezione che arriva in Italia è appunto questo meraviglioso sitar. Oltre a una serie di libri che arrivano sia dalla Cina che appunto da Tagore, dove ci sono delle meravigliose illustrazioni, anche diciamo delle istruzioni per l'uso di questi strumenti, ovviamente tenete conto che questi strumenti sono piuttosto complessi da suonare. L'ottava in questo strumento è divisa in 22 parti e vedete che ha questi ponticelli immobili proprio per adattarsi ai vari tipi di musica. Tagore scrive anche questo meraviglioso spartito, che fa parte sempre della nostra collezione, questa volta librari ovviamente, dove praticamente lui traduce l'inno God Save the Queen, quindi l'inno all'epoca imperiale, e lo traduce sia in il testo, quindi in bengali e in sanscrito, ma anche le melodie per adattarle alla musica indiana e renderle più gradevoli alle persone che dovevano ascoltarlo. Enrico, le chiedo questo, la fermo un attimo. Non è più stata... Prego. Sì, perché, allora, questa collezione ovviamente voi la state, insomma, restaurando, tra virgolette, la state ripulendo. Quale sarà poi, diciamo, la fruibilità di questi strumenti per il pubblico bolognese, ma insomma per i visitatori? Allora, in questo momento, appunto, è arrivata a fine dicembre qui al museo, per cui c'è tutta una serie di passaggi che dobbiamo fare, appunto a partire dalla prima ispezione, per vedere che non ci siano, per esempio, tali attivi, per una prima ripulitura, per vedere, insomma, lo stato di conservazione degli strumenti. Non solo, stiamo facendo anche in parallelo una campagna fotografica, di cui credo la dottoressa Servino vi abbia parlato già prima assieme a DM Cultura e coi fondi della regione Emilia-Romagna. E, fatti tutti questi passaggi, ovviamente, troveranno la loro dimora in deposito. In questo momento li stiamo anche facendo acclimatare, perché tenete conto che arrivano da depositi molto freddi, per cui in questo momento, a parte oggi che siamo in biblioteca, quindi siamo al caldo, ma noi abbiamo lavorato, e la dottoressa Favalli ha lavorato negli ultimi giorni, a una temperatura tra i 15 e i 18 gradi, appunto, per farli meglio acclimatare. In futuro, chissà, diciamo che i nostri spazi sono abbastanza pieni in questo momento, perché tenete conto che con questi arrivi la collezione di strumenti si è praticamente triplicata, quindi già le sale del museo, per chi è venuto a visitarlo e per chi non ci è venuto, vi consiglio di venire quanto prima, sono molto densi, sono molto pieni, però devo dire che questa collezione avrebbe tutti i numeri per avere una propria esposizione ad hoc. Chissà che in futuro questo non succeda. Ecco, noi ce li auguriamo. Nel frattempo, appunto, saranno fruibili gioielli tipo questi. Ecco, allora, quindi diciamo che sicuramente online saranno fruibili, perché lo shooting a cui state lavorando verrà reso fruibile online, no? Assolutamente, verranno catalogati, anzi partirà anche proprio una campagna di studio, perché tenete conto che questi strumenti, a parte qualche eccezione, ma negli ultimi 150 anni praticamente non sono stati studiati, quindi siamo al termine, diciamo, di tutte le operazioni preliminari, partiremo anche con una campagna di studio, perché questa collezione veramente è stata un po' negletta, diciamo negli ultimi anni, ma invece dal nostro punto di vista merita assolutamente, sia dal punto di vista musicale che anche da un punto di vista proprio dei materiali e degli oggetti, di cui magari parlerà meglio ovviamente la dottoressa Favali. Ecco, infatti, infatti, perché purtroppo il nostro tempo si sta concludendo, quindi io a questo punto vorrei sentire anche la restauratrice Maura Favali, che ci racconta un pochino anche il tipo di lavoro che sta svolgendo, insomma, con temperature specifiche, ma soprattutto cosa significa lavorare con strumenti così antichi e naturalmente delicati. Eccomi, buongiorno. Eccoci, allora, benvenuta. Noi purtroppo abbiamo proprio una manciata di minuti. Ecco, ci spieghi un pochino come si lavora con questi strumenti e, insomma, che tipo di peculiarità ha il suo lavoro in questa fase? Bene, beh, la particolarità di questi strumenti è che sono polimaterici, quindi sono composti da legno, osso, avorvio, pelle, corda, quindi è la sua bellezza, come vi ha spiegato e li avete già visti, però alla stessa maniera diventa anche la sua difficoltà nella gestione. Gli strumenti sono arrivati in buono stato di conservazione. Ovviamente dopo tanto tempo abbiamo uno strato di polvere, di particolato atmosferico, ma niente di gravoso in un qualche modo. Il compito principale è una manutenzione ordinaria, la chiamiamo, non proprio un vero e proprio restauro, ma ossia rimuovere quelle che sono appunto queste stratificazioni di polvere, eventuali residui un attimino più importanti, mettere in sicurezza dei sollevamenti, dei distacchi, delle piccole cose e più ancora fare un report in modo tale che questa analisi rimanga per altri interventi futuri, per collocazioni, quindi tutte le criticità di uno strumento vengono comunque segnalate per poterle gestire in tutte le sue fasi. Questo è. Per quello che riguarda l'operazione, nel dettaglio, proprio la parte più tecnica, viene di fatto fatta con degli strumenti molto semplici. Usiamo dei pennelli, dei pennelli a settola molto morbida, in questo caso abbiamo dovuto usare tantissimi pennelli perché gli incavi, gli interstizi sono di diverse dimensioni e misure, bisogna arrivare in un qualche modo dappertutto, quindi con micro-aspirazioni eventualmente. Passare un po' dappertutto, corda per corda, spazio per spazio, per rimuovere questa polvere o altri agenti che in questo caso possono anche danneggiare a lungo tempo, non è solamente un'operazione estetica, ma anche un'operazione soprattutto, direi, conservativa. Ecco. Le sorprese belle sono tutti questi... Prego, scusi, non interrotto. Sì, 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 no, ecco, perché purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire. Sì, lei ci stava dicendo delle sorprese, chiaramente, insomma, ci sono delle criticità, delle complessità, quindi per concludere, appunto la sorpresa più interessante che avete trovato? Ma sicuramente questi elementi decorativi, che sono fiori, che sono polforme, eccetera, che una volta ripuliti, una volta tirati via la polvere, vengono fuori dei dettagli veramente significativi e con delle finezze molto particolari, oppure può essere un'incisione, un disegno, la cosa più banale, che per certi aspetti può essere anche interessante, è che dentro delle casse armoniche abbiamo trovato del materiale di imballaggio dell'Ottocento, allora si usava un tipo di paglia, ad esempio. Tutti elementi di questo genere. Ecco, allora, noi naturalmente la ringraziamo e la lasciamo al suo lavoro perché sicuramente questi dettagli, questi elementi, poi verranno documentati, insomma, saranno visibili grazie allo shooting e naturalmente a quello che verrà messo online. Quindi, diciamo, ci aspettiamo, ecco, di scoprire anche tutti questi dettagli che un lavoro complesso e delicato come il suo restituisce alla contemporaneità. Il nostro spazio, purtroppo, per oggi termina qui. Io ringrazio sia lei che, naturalmente, Enrico per averci raccontato tutto questo lavoro e insomma anche per averci aperto questo scrigno. Dunque, grazie ancora a entrambi per essere stati con noi. E allora, lo spazio a nostra disposizione è terminato. Il nostro viaggio alla scoperta del territorio per oggi termina qui. Naturalmente noi siamo pronti a partire e l'appuntamento è per venerdì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.